andiamo a vedere come realizzare velocemente un'immaginazione con E-veloce trascino le mie immagini sull'area di lavoro noterete che quando trascino più di un'immagine sopra l'altra si crea un blocco di foto posso lavorare su questo blocco di foto come se fosse un'unica immagine posso ingrandirlo e posizionarlo perfettamente al centro della pagina oltre che allineato perfettamente al centro dell'altra pagina stessa cosa posso farlo sulle singole immagini e posso anche avvalermi delle linee guida per far sì che vengano allineate perfettamente tra di loro con quelle poste sull'altra pagina il resto del ridimensionamento mi permetterà di avere delle immagini precise che grazie alle linee guida potrà posizionare perfettamente al centro lavorando sulle singole immagini la prima cosa che posso spiegarvi è quella di come sostituire tra di loro due immagini col doppio clic come vedete l'area di evidenzia è verde invece di arancione e quindi posso cliccare e trascinare l'immagine partendo dalla mano per far sì che le due immagini vengano sostituite ve lo faccio rivedere doppio clic prendo l'icona e in tuttipa appare anche per ricordarmi la funzione lo trascino e lo rilascio ora posso lavorare singolarmente su ogni immagine per definire lo zoom e l'inquadratura se volessi ricreare un bordo in questo gruppo di foto potrei farlo con l'icona imposta i bordi ogni singolo clic mi crea una distanza tra le due immagini così come potete vedere posso anche creare oltre a una distanza tra di loro un bordo tutto attorno che posso anche con la funzione colore sfondo e bordi cambiare di colore passando dal bianco a un colore a mia scelta esempio il nero questo è l'effetto ottenuto se volessi tornare ad avere un effetto di distanziale solo bianco imposto il bordo bianco e ripristino la distanza avendo così un'impaginazione pulita